E per questo, per la prima volta, come avrete visto... Strade comunali più sicure e agevoli, nuove rotatori e parcheggi. Sono 23 i comuni della provincia di Pesaro e Urbino, vincitori dei bandi regionali sulla sicurezza stradale, che beneficeranno di oltre 2 milioni di euro, che con la compartecipazione delle amministrazioni, di circa 990.500 euro, diventeranno oltre 3 milioni. Tra coloro che hanno ottenuto i finanziamenti, come ad esempio la città di Pesaro, a cui sono stati assegnati 80.000 euro, che saranno destinati alla realizzazione di un deposito per biciclette, vicino alla stazione del treno o il comune di Mondolfo, che beneficerà di 100.000 euro, non spiccano però i nomi delle città di Fano ed Urbino, rimaste escluse dalla pioggia di risorse dalla regione. Se infatti la città della fortuna non ha nemmeno tentato di accedere al finanziamento, Urbino invece ha presentato un progetto che però non è stato ammesso. Mai la regione aveva stanziato così tante risorse per sostenere i comuni marchigiani nella messa in sicurezza e nel miglioramento della rete stradale comunale, ha affermato l'assessore alle infrastrutture, Francesco Baldelli. Si tratta di contributi assegnati con bandi nella massima trasparenza, in maniera capillare su tutto il territorio regionale e diffusi a tantissimi comuni, ha concluso l'assessore. Complessivamente i beneficiari sono 139 comuni marchigiani. La regione Marche investe ben 11 milioni del proprio bilancio per attivarne altre 9, quindi 20 milioni di euro che verranno messi a terra e che vanno a finanziare i comuni. Come ben si diceva, non si vanno più a finanziare, ad inseguire le emergenze, ma si vanno a programmare interventi per la sicurezza e il decoro urbano nell'arteria stradale di competenze dei comuni. Questo per evitare in futuro che si creino proprio quelle emergenze sulla sicurezza. L'intervento è diretto ai comuni perché sono stato sindaco, ha spiegato Baldelli, e ritengo che i sindaci vadano sostenuti in quest'azione volta a garantire la sicurezza dei cittadini, vista la penuria di risorse che a volte nei bilanci vengono destinate alle infrastrutture e alla sicurezza. Un intervento sistematico che riguarda tutta la regione e che copre le esigenze di almeno il 62% dei comuni marchigiani. Per la prima volta non si assegnano risorse ad hoc a quel sindaco o all'altro comune, ma si assegnano importanti risorse regionali sulla base di un bando della regione Marchia a cui tutti hanno potuto partecipare.